Ciao ragazzi di Oga Italy è appena finito il Junior Eurovision Song Contest a Malta e abbiamo incontrato Gaia Kaoki proprio lei che ha portato l'Eurovision qui a Malta e siamo molto finiti qui lei è, sapete benissimo della sua partecipazione si lascia la canzone e la sua prima interpretazione della canzone Together che è stata l'Eurovision una bellissima canzone bravissima canzone e...senti questa cosa è così più buono ti è piaciuto questo Junior Eurovision? grazie e che atmosfera c'è? tu sei sempre felice a me mi piace la canzone e la canzone bene grazie molto gentile veramente e niente vi chiederei soltanto velocemente vi salutare i nostri amici di Oga Italy Oga Italy ciao ragazzi di Oga Italy grazie e un saluto da Malta a me e a me ciao grazie 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 grazie